ci siamo ragazzi la diretta è partita stiamo facendo la prova tecnica stavo già sbagliando qualcosa in partenza e quindi meno male che facciamo la prova tecnica vediamo che tutto quanto sia posto che la linea sia abbastanza veloce lo è e mi approfitto per salutare gli ultimi amici a cui non ho fatto in tempo a scrivere in chat quindi ciao Maria, ciao Luce, Yolando poi vediamo Michele parla con l'altro Daniele ciao Graziano ben arrivato tra gli abbonati vedo la tua maggiolina rossa grande, grandissimo e niente, stai qui con stai qui con noi vedrai che sicuramente un po' alla volta imparerai tutto quello che serve allora, saluto Dennis Angelo, sì siamo in attesa ed ecco gli ok quindi se state sentendo la mia voce se vedete la schermata stiamo per iniziare un vostro ok mandato in chat mi aiuta a capire che tutto va bene e quindi vedo che ci siamo ecco un sacco di ok e intanto anche se volete provare la chat per scrivere qualcosa un saluto eccetera va più che bene in questo momento ok dai direi che siamo stabili la connessione è buona possiamo lavorare e quindi possiamo partire con la diretta quindi io devo schiacciare i bottoni giusti per arrivare in diretta e adesso ci proviamo allora devo fare così ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina bentornati sul nostro canale bentornati nel luogo dove parliamo settimanalmente in diretta di computer quindi abbiamo modo di confrontarci e di raccontarci qualcosa in questo periodo in particolare stiamo facendo il nostro corso di alfabetizzazione digitale che ricordo non è solo il mercoledì questa è la lezione lunga dove chiacchieriamo di più dove mi fatele delle domande dove cerco di rispondere quindi se vogliamo un po' più dispersiva del solito ma è il momento in cui abbiamo l'occasione di stare insieme questa lezione poi viene riepilogata il sabato in una versione diciamo un po' più corta dove non ci sono tutte le dispersioni e dove facciamo un ripasso delle cose prendiamo gli appotti poi ci sono le lezioni registrate che di solito sono il lunedì però i giorni possono cambiare quindi finora siamo sempre stati di lunedì di mercoledì, il sabato la settimana scorsa c'è stato qualcosa il giovedì quindi vi invito a fare un salto sul sito Amici di Maggiolina il nostro sito dove mettiamo tutti quanti i nostri video settimanali le ultime due settimane sono qui nel calendario poi ci sono i video raccolti nei vari corsi quindi raggruppati per argomento e quindi da qui chiunque può seguire il corso che desidera trovandoli tutti quanti in ordine e in quell'argomento lì poi ci sono anche un sacco di altri pulsanti che ci permettono di vedere varie cose qui nel nostro sito il corso di alfabetizzazione digitale per i super principianti dato che partiamo da zero è disponibile anche nel sito associazionemaggiolina.it alla voce alfabetizzazione digitale anche qui ci sono le lezioni in ordine ci sono solo queste perché è un'area diciamo nuova per i super super principianti e quindi se vieni qui puoi vedere tutti quanti i corsi c'è da dire che tutti i contenuti quindi la lavagna condivisa e certe cose sono disponibili solo per gli amici sostenitori di associazione culturale Maggiolina e qui comunque ci sono i video che vi raccontano come si fa ad essere amici associazione Maggiolina come abbonarsi al canale YouTube e colgo l'occasione per ringraziare tutti gli amici abbonati se vedete in chat alcuni di loro hanno accanto il nome una Maggiolina, una coccinella di vari colori quello è il distintivo degli amici abbonati che ci sostengono da tempo i colori della coccinella cambiano in base al tempo diciamo dell'abbonamento da quanto tempo sono abbonati e quindi a loro va il nostro sentito ringraziamento così come va il nostro ringraziamento a tutti gli amici che fanno le super chat e i super sticker durante le dirette è un modo che avete per sostenerci che ci permette di essere qui e a tutti gli amici che utilizzano il super grazie anche quello è un modo di sostenerci che potete fare durante qualsiasi video sotto al video c'è un simbolo del dollaro quello serve per mandare un super grazie però ci sono anche altri sistemi sappiamo del mondo reale per sostenerci sul nostro sito trovate tutti i riferimenti anche a quelle persone che ci aiutano in quel modo grazie, grazie, grazie infinite allora oggi ci occupiamo del corso di alfabetizzazione digitale e siamo alla lezione numero 13 questa archiviazione prendiamo la nostra lavagna e andiamo a vedere che cos'è questa cosa di cui abbiamo bisogno di avere conoscenza allora noi abbiamo iniziato intanto nel video di lunedì dove è quello di lunedì scorso questo, il numero 12 a scrivere qualcosa sulla tastiera mi auguro che l'abbiate guardato se l'avete guardato e se siete principianti riguardatelo e riscrivete riguardatelo e riscrivete riguardatelo e riscrivete perché quello è quello che vi porta prima a sapere usare il computer scrivere per adesso i super principianti se scrivono arrivano prima a saperlo usare quindi anche se scrivi sempre la stessa cosa anzi meglio arrivi prima a usare il computer quindi questo video dove scriviamo 4-5 righe va bene se tutti i giorni scrivi con le 4-5 righe va bene poi ovviamente proseguiremo ne approfitto per salutare Aldo ciao Aldo e da un po' che non ti vedo mi fa piacere vederti qui oggi grazie grazie saluto Antonella abbonata da 21 mesi grazie infinite Antonella e anche Jacqueline anche lei abbonata da 45 mesi gli amici abbonati hanno una funzione non so dove che gli permette di mandare un messaggio che mostri da quanto tempo sono abbonati tra un po' secondo me a cavallo di novembre-dicembre gli abbonati da più tempo avranno un nuovo simbolo non sarà più la coccinella ma passeranno al numero 1 fan quindi saranno distinti ancora maggiormente ecco qua anche il messaggio di Aldo da 46 mesi e dovrebbe avvenire questa cosa intorno a dicembre se non novembre allora ragazzi quindi tastiera ok noi abbiamo scritto con la tastiera quindi abbiamo visto in quel video lì che scriviamo e le cose che abbiamo scritto e sono nel computer le scriviamo le abbiamo scritte nel computer sono nel computer ma non sappiamo ancora dove tant'è che le abbiamo scritte poi le abbiamo buttate via ho detto vabbè questa roba qui la scriviamo e poi la buttiamo via in realtà no molte delle cose che facciamo le facciamo per poi andare diciamo a conservarle e quindi tante cose ci serve conservarle disegno una riga in chat mi sono dimenticato prima così poi da questa riga andrò a leggere i commenti per rispondere alle domande magari torno anche un po' indietro visto che mi sono dimenticato di fare la riga prima allora lavagna andiamo a prendere la nostra lavagna dove è? sotto il video di sabato lavagna condivisa eccola qua raggiungiamo la nostra lavagna dove prendiamo tutti quanti i nostri appunti e andiamo alla pagina questa dove ci siamo detti che cosa contengono computer smartphone e tablet cioè i nostri dispositivi digitali contengono i contatti numeri di telefono cognomi nomi indirizzi email foto documenti fogli di calcolo progetti app della musica musica app della banca scusate musica video domotica messaggio documenti sanitari identità digitale appunti eccetera contengono un sacco di cose questi dispositivi digitali che siano computer o che siano smartphone ma dove vanno a finire quindi a questo punto a me interessa sapere ok contengono un sacco di cose ma dove perché se devo andare a metterci mano devo andare a vedere devo andare a tirare via qualcosa devo trasferire i miei dati da questo computer a quell'altro eccetera io ho bisogno di avere coscienza che il nostro computer il nostro smartphone il nostro tablet hanno un luogo dove le cose vengono memorizzate dove le cose vengono archiviate quindi noi oggi qui come devono essere le password ok questa cosa qui non me la ricordavo si ok l'avevamo fatto quindi noi oggi abbiamo bisogno di conoscere gli spazi di archiviazione quando io devo registrare memorizzare salvare sono tre modi per dire la stessa cosa quindi quando devo mettere delle cose nel mio computer devo sapere dove vanno a finire quindi quali sono questi spazi di archiviazione mi scrivo solo qua velocemente archiviazione qualche appunto che poi andrò a sistemare in riepilogo sabato in un video apposito e quindi andiamo a scrivere un titolo un testo normale mi scrivo solo archiviazione ok allora cominciamo dal computer poi vedremo anche smartphone e tablet magari questa sera magari successivamente allora io torno qua sulla schermata principale del mio computer alla quale dobbiamo ancora dare un nome lo faremo presto mi trovo qui e voglio sapere dove vanno a finire le cose nel mio computer perché non tutti i computer sono uguali e non tutti gli spazi di archiviazione sono capienti uguali e magari ne ho di più o ne ho di meno prendiamo ad esempio un'automobile quando noi usiamo l'automobile abbiamo degli spazi dove mettiamo le nostre cose la valigia la metto nel portabagagli i documenti dell'automobile le metto nel cassettino davanti al cruscotto in fianco alle portiere metto l'ombrello metto un po' di cose nel portabicchieri portalattine metto bottigliette bicchieri o lattine quindi in auto abbiamo un sacco di spazi di archiviazione ma non tutte le auto hanno gli stessi spazi di archiviazione nello stesso posto con la stessa capienza e proprio gli stessi spazi di archiviazione perché ad esempio alcune auto magari hanno anche il portabagagli sopra la bagagliera sopra e altre no si può mettere si può togliere tutto un discorso di questo genere e anche questa cosa qui vale per il computer quindi anche nel computer esistono dei luoghi dove io vado a archiviare le cose e devo saperle gestire e saperle riconoscere allora ne scrivo qualcuno ne scrivo il primo che diciamo è l'ultimo perché non è nel nostro computer però ho paura di dimenticarmi di dirlo e quindi vado a scriverlo subito la nuvola nuvola o cloud che sta per nuvola in inglese cloud se non mi sbaglio si scrive così manca la L infatti l'ho scritto male allora cloud ok spero che sia giusto così questa è la nuvola sta per nuvole in inglese il cloud come si pronuncia adesso non sono ben sicuro sapete che il mio inglese non brilla è cosa a cui bisogna rimediare quindi la nuvola è uno spazio su un computer non nostro Google per dirci ma anche Windows Microsoft l'azienda che ci fornisce Windows Windows 11 Windows 10 eccetera ci mette a disposizione su uno dei loro computer dello spazio per registrare per memorizzare per archiviare per salvare delle cose e quindi questo spazio di archiviazione la nuvola è al di fuori del nostro computer non ce l'ho qui in casa non lo raggiungo toccandolo lo raggiungo solo attraverso internet questo spazio ha il vantaggio di essere condiviso con più dispositivi quindi la stessa nuvola può essere raggiunta dal mio computer ma anche dallo smartphone ma anche dal tablet posso addirittura condividerne una parte con altre persone la lavagna che noi stiamo utilizzando quindi questo documento ne è un esempio concreto e proprio completo io adesso sto scrivendo queste cose sulla mia nuvola di Google quella di questo di questa persona qua di questo account vi ricordate che abbiamo parlato mercoledì scorso delle password delle registrazioni dei nomi utenti quindi questo nome Daniele Castelletti maggiolinatest chiocciolagmail.com ha uno spazio nuvola presso Google nel quale mette delle cose nel quale io Daniele Castelletti vado a mettere delle cose e una di queste cose è la nostra lavagna del corso di alfabetizzazione digitale che è una specie di appunti un quaderno diventerà speriamo dove ci saranno le abbreviazioni di tutto quello che stiamo facendo questa lavagna la sto scrivendo questa lavagna questo corso insomma questa roba qui la sto scrivendo adesso con il computer ma la posso guardare dal mio smartphone la posso guardare dal tablet e se sono in giro sono in biblioteca se mi faccio prestare un computer se mi seguo se mi siedo al computer della biblioteca la posso guardare anche lì io che ne sono il proprietario posso modificarla ma anche voi se siete amici di maggiolina quindi da qua dentro lavagna condivisa potete prendere e raggiungere la mia nuvola solo la parte lavagna e vedere che cosa c'è dentro e quindi consultarla stamparla fare delle cose quindi questo è lo spazio di archiviazione che è nato per ultimo ma che ormai è diciamo il più diffuso in assoluto perché ha tanti vantaggi non sono solo vantaggi ci sono anche svantaggi nel senso che la nuvola non ce l'ho non ce l'ho qui stavo guardando questa cosa qui un nostro amico si è aggiunto alla nuvola per vedere la cosa poi è uscito dicevo questa nuvola non è a mia disposizione è un mio spazio privato tenuto presso terzi quindi mi devo fidare ok consideriamolo tanto per farci l'idea del fidarci come una una cassetta di sicurezza in banca qualcuno di noi ha una cassetta di sicurezza in banca quindi vuol dire che presso la banca c'è uno spazio suo dove ci mette dentro le cose ok e quindi ha delle chiavi eccetera eccetera però non è a casa sua in banca ci lavorano altre persone eccetera quindi si fida quella persona avere qualcosa nello spazio nella cassetta di sicurezza bancaria se ti fidi della tua cassetta di sicurezza bancaria ti fidi anche della nuvola di google perché è la stessa identica cosa uno spazio protetto con password chiave eccetera dove tu metti le tue cose poi è chiaro che magari mi fido fino a un certo punto e che quindi certe cose non le metto nella cassetta di sicurezza in banca e non le metto sulla nuvola oppure mi fido di più della cassetta di sicurezza in banca e della nuvola rispetto agli strumenti che ho a disposizione a casa mia e quindi certe cose non le tengo a casa ma le metto sulla nuvola o nella cassetta di sicurezza in banca quindi l'esempio è proprio calzante vedete la nuvola come una cassetta di sicurezza in banca perché tutti quanti si dicono ma sarà sicuro ragazzi è sicura una cassetta di sicurezza in banca è più sicura casa vostra è più sicura la cassetta di sicurezza in banca se vi fidate dei dipendenti della banca e quindi ma posso entrare solo io perché la chiave ce l'ho solo io la stesso discorso vale con google gmail e tutto quanto quindi questo è il primo discorso spazio di archiviazione fuori da casa nostra di nuvole ce ne sono tante come di banche ce ne sono tante in alcuni posti paghi in alcuni posti non paghi in alcuni posti paghi se la nuvola è più grande se la nuvola è più piccola invece è gratuita eccetera ed è una cosa che affronteremo a suo tempo quando impareremo di solito la teniamo in fondo perché è nata dopo ci siamo sempre detti prima impariamo a mettere mano sul computer poi ci arriveremo in realtà in realtà in questo corso di digitalizzazione la presentiamo subito perché deve diventare un nostro modo di lavorare già da subito ci sono computer torno indietro che non hanno uno spazio di archiviazione interno quindi i computer per esempio con il sistema operativo Chrome OS quindi questi computer qui non hanno spazio di archiviazione all'interno del computer stesso cioè se tu lo butti per terra non c'è dentro niente dei tuoi dati si rompe il computer ma i tuoi dati sono tutti sulla nuvola quindi questo computer Chrome OS questi Chromebook si chiamano lavorano tutto sulla nuvola perché sono di nuova concezione di nuova generazione costano molto meno perché tra le altre cose non hanno uno spazio di archiviazione o ne hanno uno molto ridotto quindi questa cosa va eventualmente conosciuta prima di comprare uno di questi computer e digerita perché devo dire ok lavoro tutto nella mia cassetta di sicurezza bancaria e quindi non a casa mia posso raggiungere i miei dati se mi collego a internet se non mi collego a internet no così come in cassetta di sicurezza bancaria se la banca è aperta vai dentro e se no no e quindi questo è un discorso magari ci sono anche in alcuni posti le cassette di sicurezza accessibili 24 ore immagino ma non ho esperienza in merito va bene quindi questo è il nostro concetto nuvola ok uno spazio extra che tutti abbiamo già per il fatto che abbiamo una registrazione a google ok però lo spazio che io ho a disposizione immediato è quello del dispositivo che sto utilizzando quindi il disco interno del mio computer nel nostro computer ci sono uno o più dischi questo è un disco per farvi per farvi un'idea questo è un disco vecchio da computer adesso sono anche più piccoli questo si montava su computer portatili quindi notebook abbiamo imparato che si chiamano questi computer portatili questo più grande in passato si montava sui computer fissi computer desktop da scrivania che puoi tenere a casa vedete che le dimensioni sono diverse in realtà adesso sono ancora più piccoli e non c'è più distinzione tra da fisso o portatile però fatevi un'idea di queste cose qui un oggetto che un oggetto elettronico che memorizza quello che voi decidete di archiviare quando si rompe il computer il computer magari non si accende più ma qua dentro i dati ci sono ancora se il guasto non ha intaccato il disco per cui è possibile tirarli fuori tirando fuori il disco e gestendo certe situazioni per cui sappiate che quando voi registrate qualcosa va a finire in un disco nel vostro computer andiamo a vedere dove trovo questi dischi dove posso consultare i dischi sapere quanti sono quanto sono capienti eccetera lo troviamo qui io sono tornato sullo schermo principale del mio computer vado qui dove trovo esplora file nel mio windows 11 premo si apre una schermata questa con scritto questo pc questo computer qui che sto usando se si apre in un altro modo quindi se qui non vedi questo pc devi andare qui sulla sinistra facendo scorrere con la rotella con la rotella del mouse puoi fare scorrere quando sei qui a sinistra puoi fare scorrere diciamo la zona trovi questo pc ci premi sopra una volta e arrivi qui con questo tasto ingrandisco faremo questo discorso presto oggi volevo solo occuparmi dello spazio di archiviazione quindi ti faccio vedere come ho fatto ad arrivarci ma questi movimenti li impareremo in un video apposito dove un po' alla volta sapremo dove andare a schiacciare le cose quindi sono andato su esplora file da qui un click col tasto sinistro del mouse sono andato su questo pc un click col tasto sinistro del mouse e ho premuto sul tasto qui centrale così si è ingrandito tutto se è già grande tutto non hai bisogno di schiacciare il tasto centrale perché è già grande tutto allora nel mio computer ci sono uno due tre quattro e cinque dischi disponibili quindi questo computer ha cinque posti uno mi è caduto dove poter andare a archiviare le cose cerco di prenderlo subito se non lo perdo ecco allora questo che mi è caduto tanto non funziona più ma questo che è ancora valido nel senso che ci sono ancora dentro delle cose non deve cadermi se mi cade si rompe questo qua invece è già rotto di suo e quindi non cambia niente quindi questo qui sano lo metto dietro perché altrimenti so che mi cade e siamo a posto allora nel mio computer ci sono dentro cinque di quegli affari lì più moderni però sono lì o meglio io ho detto ci sono dentro in realtà no il mio computer raggiunge cinque di questi dischi alcuni sono dentro alcuni sono finti e alcuni sono esterni li ho collegati io dopo in un computer è normale che ci sia almeno un disco quindi se nel tuo computer c'è un disco solo è normale se ce ne sono di più è un di più però tu ti puoi aspettare che ci sia un disco solo nel tuo computer e gli altri eventualmente adesso capiremo cosa sono ma sono degli extra se vogliamo dircela così allora intanto nome di questo affare qua questo è il disco interno interno del computer per cui ha vari nomi perché c'è da sempre in pratica e si chiama in vari modi allora prendiamo la lavagna così intanto li segno che mi faccio l'appunto per quando poi dobbiamo fare il riepilogo allora quindi questo qui è il disco interno al computer uno dei nomi che ha è disco fisso perché è un pezzo avvitato dentro il computer e tu non lo puoi tirare fuori perché in passato c'erano anche i dischetti volanti i dischetti che tu potevi andare e cambiare tutte le volte i primi spazi di archiviazione sono stati dischetti guardavo se ne avevo uno vediamo sì no sono stati dischetti di quelli che potevi mettere e togliere i floppy disk peccato secondo me è troppo nascosto per tirarlo fuori adesso adesso non ci sono più e si usano i dischi fissi da un sacco di tempo quindi questo viene chiamato disco fisso perché è fisso dentro al computer quindi disco fisso disco fisso oppure nel tempo è stato chiamato anche disco locale perché è localmente interno al tuo computer quindi disco locale disco locale locale disco fisso disco locale disco rigido perché è duro in passato in passato i dischi erano flessibili i primi e quindi disco duro qui stavo guardando se la linea telefonica è a posto perché abbiamo avuto un attimo un rallentamento tutto a posto ok qualcuno dice non ti sento più ma vedrete che adesso ragazzi si riprende tutto quindi disco rigido disco rigido poi un altro modo di chiamare lo stesso disco è all'inglese hard disk quindi disco duro stavo guardando ma direi che è a posto qualcuno mi mandi un ok così si dice ok adesso sento bene così capisco qualcuno invece dice la voce va a scatti adesso aspettiamo vediamo cosa succede qualche istante in modo da non perderci da non perderci il discorso quindi aspetto anche qualcuno che mi dica ok se ci siamo ecco che vediamo un po' di ok perfetto hard disk disco duro all'inglese sapete che l'inglese ce l'abbiamo sempre diciamo nel mondo informatico quindi hard disk vado a scrivere bravi bravi che mi mandate l'ok hard disk ok e il nome che utilizziamo tutti quanti è l'abbreviazione di hard disk quindi quando tu compri un computer e hai bisogno di sapere quanti dischi ci sono dentro che disco c'è e devi guardare ecco adesso anche da me mi ha detto tutto quanto a posto devi guardare quanto è capiente l'hard disk allora l'abbreviazione è HD quindi il disco interno del nostro computer è l'hard disk disco fisso disco locale disco rigido sono tutti i modi per fare riferimento all'hard disk al disco fisso del nostro computer facciamo un salto sul sito solito per vedere qualche computer allora così capiamo bene questa cosa qui media world sapete che mi appoggio lì per guardare non c'è sponsorizzazione non c'è niente voglio solo capire i prezzi e vedere le caratteristiche dei computer dunque vado qui tutte le categorie computer computer portatili e fissi tutti ok allora questa è la descrizione del computer voglio vedere che hard disk c'è dentro quindi se io ci premo sopra vediamo vediamo un po' vedo un computer a caso abbiamo preso vediamo se ci sono le caratteristiche tecniche eccolo qua allora il nostro computer qui ha sistema operativo windows 11 ok qui ci sono più computer eccoli qua 1 2 3 così ne abbiamo 3 a paragone quindi sistema operativo windows 11 windows 11 windows 11 questa voce ssd è l'hard disk l'hd più veloce di generazione nuova quindi ssd 1000 gigabyte 1000 gigabyte 512 gigabyte quindi adesso ancora non sappiamo cos'è un gigabyte e non ho voglia questa sera di farvi ancora ancora più teoria sui gigabyte la faremo perché è importante però 1000 sono di più di 512 ok quindi questo computer ha metà spazio di archiviazione rispetto agli altri questo lenovo idea pad questo qui rispetto agli altri due ha uno spazio di archiviazione ridotto della metà per lo meno quindi ha una caratteristica in meno che ha costa un po' meno però vediamo ad esempio che il primo costa uguale e ha il doppio dello spazio di archiviazione magari ci sono altre caratteristiche che ci interessano però questa è una caratteristica e vediamo che in questo caso questo computer ne ha meno e quindi ci stanno meno cose tradotto ci stanno in meno cose mi interessa sì e no perché alcune cose le posso mettere sulla nuvola quindi non è detto che io devo mettere tutto qui certe cose le posso mettere sulla nuvola posso dirti per esperienza comunque che lo spazio non è mai abbastanza nel senso che se tu hai un garage che sia grande o che sia piccolo stesso prezzo ma facciamo che sia grande perché così ci metto più roba poi magari se ce l'ho piccolo questo garage porto della roba da un'altra parte ma se è grande non fa mai male pago uguale stesso prezzo d'affitto quello che è sì uguale uguale però ok allora dammi quello grande questo è il concetto ovviamente nel computer si fa una una valutazione più ampia di altro genere volevo farti vedere il computer il Chromebook quindi andiamo qui su computer quindi rifacciamo questo giro qua computer voglio vedere il Chromebook questo qui questi sono i computer con Chrome OS con il sistema operativo Chrome OS questi non hanno praticamente spazio di archiviazione ed eccolo qua 64 GB viene citato direttamente qua 64 64 1512 64 vedete che c'è proprio un minimo e quindi questo è una cantina un portabiciclette neanche una cantina ok però questi computer lavorano così questo 128 già di più ma siamo sempre a niente praticamente ok è molto poco però questi computer si usano così hanno un loro perché va bene quindi qui ci siamo fatti intanto un'idea di questa cosa come fate a sapere quanto spazio avete nel vostro computer arrivate qui faccio il giro di nuovo così ce lo ricordiamo dallo schermo principale premo su esplora file poi vediamo intanto vi state dicendo ok dopo leggo le cose mi sono accertato solo che funzionasse bene qualche problemino c'è al momento sulla linea in questo momento vedo che la mia linea sta avendo un problemino stavo guardando se c'era qualcosa che non andava peccato attendiamo un attimo per vedere che si riprenda la linea peccato questo problema eccolo qua forse siamo partiti ok io sono un po' in difficoltà con la mia linea vediamo a me sta dicendo che sta andando tutto bene in realtà faccio un controllo qui sta andando tutto bene quindi è solo un problema sul mio computer se qualcuno di nuovo mi dica come va io ho delle piccole pause ma tollerabili grazie 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 edo e speriamo che vada bene per tutti perché è un peccato perdersi il discorso ok bene bene allora dicevo come fate a sapere quanto c'è quanto spazio c'è nel vostro computer quanti dischi avete eccetera rifacciamo il discorso schermata principale vado qui premo su esplora file vado qui premo su questo pc io non ne ho bisogno perché ci sono già ma la maggior parte dei computer non ci va subito è una regolazione che ho fatto io al mio quindi premo su questo pc arrivo in questa schermata magari premo in mezzo per ingrandire tutto questo è il mio disco c e vediamo che ha 237 gigabyte totali quindi quelli là erano mille il mio qua ne ha 237 è un ottimo computer però un po' piccolino questo disco però il mio in realtà ne ha 5 in questo caso ne ha 2 disponibili quindi ecco perché uno è piccolo perché comunque ha un secondo disco che mi interessa è questo il nostro disco si chiama disco fisso disco locale disco rigido hard disk o hd perché è duro e quindi ha tanti nomi il computer però lo chiama con un modo solo lo chiama disco c questa lettera dell'alfabeto c fa riferimento al disco interno del computer il disco principale del nostro computer si chiama sempre su tutti i computer disco c con windows tutti i computer con windows disco c ok quindi eeeh ok va bene dai disco c e se ci sono problemi provate a guardare la registrazione perché la registrazione dovrebbe poi non avere più questi problemi qua la diretta c'è sempre magari l'incognito della diretta c'è un po' di maltempo in giro quindi magari c'è qualche c'è qualche problema in più quindi il disco c è sempre il disco interno del nostro computer poi se ne hai degli altri bene ma su un computer con windows tu aspettati di vedere un disco c e questa è la sua capienza poi nel mio caso in questo momento mi sta facendo vedere quanto spazio c'è se ci vado su comunque mi dice spazio libero 121 dimensioni totali 237 vedo a occhio che sono a metà quindi metà del mio disco è pieno e metà è vuoto attenzione che il computer con i tre quarti quindi se fosse pieno per tre quarti è un computer lento dai tre quarti in avanti il computer è pieno è come avere il garage quasi pieno se devi prendere una roba in fondo devi tirare fuori metà della roba che hai davanti devi passarci si impieghi molto di più se il garage è quasi vuoto la scala in fondo vai dentro la prendi da parte fuori se invece il garage è quasi pieno la scala caspita devo passare sotto tirare giù è perché c'è davanti questo è la credenza e tutto quanto e quindi il computer fa lo stesso discorso se è quasi pieno dopo i tre quarti ci impiega di più perché deve tirare fuori la roba prima di andare a prendere quella in fondo mentre invece se è vuoto via è importante che il disco C del tuo computer quindi non sia pieno oltre i tre quarti altrimenti vai piano per evitare che questo disco C si riempia oltre i tre quarti o si usa la nuvola o si hanno degli altri dischi nel mio computer infatti c'era già in partenza dentro un secondo disco quindi questi se io apro il computer li vedo dentro attaccati al computer un disco C che è il principale il più veloce SSD di tecnologia più veloce più piccolo perché costavano adesso col passare degli anni costano sempre meno ma all'epoca costavano un po' di più non è che sia vecchissimo il mio computer ma ogni anno che passa novità e prezzi più bassi per certi componenti e più alti per quelli più nuovi quindi disco C era da 237 GB totali però dentro il computer ce n'era un altro da qui c'è scritto 914 in realtà impareremo che sono 1000 quando parleremo dei GB impareremo che sono 1000 più o meno quindi ce n'erano due uno stile hard disk HD questo tecnologia più vecchia ma più capiente molto molto più capiente e uno veloce un po' più piccolo quindi quando abbiamo guardato i computer di là abbiamo visto che avevano 1000 GB di hard disk nel mio computer ce ne sono 1000 più 237 quindi 1237 un po' di più per capire questo discorso per cui sul disco D immagazzino tutte le cose che occupano tanto spazio che mi servono per lavorare nel senso documenti foto video eccetera quant'altro che se io mettessi di qua andrebbero a riempire il disco mi renderebbero il computer lento qui invece tengo solo le cose indispensabili quelle cose che non possono essere messe sul disco D perché altrimenti il computer non funzionerebbe te lo dice perché non te le fa mettere da un'altra parte però sappi che se hai un disco C e un disco D tu devi cercare di mettere tutto sul disco D perché così il tuo computer resta più veloce ok due dischi questi sono dischi interni al computer poi questo è il DVD ah una cosa lettere dell'alfabeto la C è sempre il primo disco del tuo computer dopodiché ci sono lettere dell'alfabeto C D E F G H I Z Q eccetera non è neanche che debbano essere in ordine alfabetico lettere dell'alfabeto diverse ok quindi C e D io li conosco e so che sono i miei due computer i miei due dischi interni al mio computer poi c'è questo il G qui lo chiama G che è il DVD nel mio computer c'è lo spazio per mettere il DVD il DVD al momento non c'è però lo spazio c'è quindi è un disco che io posso andare a mettere intercambiabile ne metto uno metto l'altro eccetera penso di non averlo mai usato perché ormai i DVD si usano sempre meno però sono contento che ci sia importante diciamo in un computer per poter fare tutto che ci sia nei computer portatili ormai non c'è più perché effettivamente se ne può fare a meno però se c'è non male se lo comprate per la scuola magari se c'è è meglio perché a volte danno i dischetti insieme ai libri quindi non si sa mai però ormai si tende a non usarlo più e quindi vabbè guardo il prezzo se c'è bene se non c'è niente tendono a non metterlo per risparmiare soldi per fare il computer più leggero e fine dato che tanto questi non si usano più però se c'è questo simbolo è il dvd dvd, cd e quant'altro poi c'è questo recovery questo recovery che è un disco e è parte del disco d quindi questo è un disco virtuale lo riconosco io primo perché ho aperto il computer e lo so ma in genere i dischi recovery sono dischi virtuali cioè sono un pezzettino del disco più grande in questo caso del disco d nel quale è stato memorizzato un salvataggio del tuo windows quindi qui in recovery io ho il mio windows in caso di danni al computer lui è in grado di prendere questo pezzettino di disco e recuperarmi windows non i miei documenti lui si recupera automaticamente così come era nuovo torna nuovo windows torna nuovo ma quello che c'era dentro non è detto che ci sia dipende da come faccio il recupero e quello che c'era dentro non è detto che sia recuperabile questo recovery serve solo per poterti rimettere il computer in funzione tutto il resto delle tue cose dipende se sei stato bravo e le hai salvate nel posto giusto oppure no gestione tua ma questo recovery serve per ridarti il computer in funzione c'è in quasi tutti il computer in alcuni non si vede ed è fatto in modo perché io so che le persone dicono andiamo a vederci dentro aspetta che cos'è quella roba lì la cancello ci possono mettere dentro anche le mie cose e quindi fanno dei pasticci e poi il recovery non funziona più quindi questo non si tocca ecco perché in alcuni computer non si vede perché così se non lo vedi non ci metti le mani e sei a posto questo computer invece lo dà in chiaro quindi io vedo che è quasi pieno perché è piccolo lo fanno piccolo il disco recovery perché occupa spazio del disco più capiente quindi il giusto perché ci stia a Windows e basta non serve che sia tanto più grande ok che ore sono abbiamo parlato un bel po' ok quindi qui ci siamo questo invece lavoro H è un disco esterno uno di questi questo è un disco esterno che compri a parte questo è uno vecchio ormai ci sono di mille forme più moderne eccetera questo è un disco esterno se io lo attacco al mio computer salta fuori qui una lettera nuova e io posso usare anche questo disco qui quindi questo lavoro è il disco su cui io memorizzo le mie cose di lavoro i video le copertine dei video le varie cose non le registro dentro le registro fuori su un disco come questi perché mi capita a volte di dover lavorare mentre sono in viaggio mi avete visto nei video precedenti che ero in viaggio in quel caso avevo staccato il disco simile a questo dal mio computer l'ho portato con me e l'ho attaccato a un computer portatile quindi il mio lavoro viene con me insieme a questo disco per cui se io quando sono a casa lavoro su un disco esterno poi quello può venire con me e lo posso usare ovunque io sia basta che ci sia un computer un qualsiasi computer collego il disco e lavoro da lì e quindi ho questa scelta del disco esterno vediamo che ci sono tante cose se queste tante cose fossero in questo disco sarebbe pieno perché alla fine questo di lavoro è 931 gigabyte ed è pieno per la metà questo è 914 ed è pieno per la metà sarebbe pieno quindi avrei anche un problema di spazio queste cose non sono qui e quindi ho aumentato lo spazio di archiviazione e ho scelto di averlo portatile perché così posso portare le cose con me quindi questo è il racconto dei miei dischi vi invito ad andare a guardare nel vostro computer che disco c'è e vedere se c'è il disco se c'è il disco C c'è per forza ovviamente e quindi a farvi un'idea di questo anche nello smartphone ci sono dei discorsi da fare ma lo faremo un'altra volta perché adesso voglio guardare le vostre domande ci mancano ancora delle altre cose noi abbiamo visto questo che è un disco rimovibile un hard disk esterno ma ci mancano anche le pennette questa è una pen drive una penna USB è un disco esterno in definitiva piccolino nelle dimensioni non è detto che sia piccolo nella capienza attenzione perché ormai scusate nel piccolo ci fanno stare comunque un sacco di cose quindi questo è un nuovo disco che io posso infilare nel mio computer e poi lo vedrei qua come lettera dell'alfabeto però oggi diciamo che ci fermiamo qua e vediamo le vostre domande perché sicuramente così approfondiamo l'argomento allora torno al sito amici di Maggiolina che mi piace avercelo in sfondo questo lo chiudiamo ma lo teniamo lì non si sa mai dobbiamo consultare qualcosa ok abbiamo la nostra lavagna che metteremo a posto durante la lezione di sabato e vediamo che cosa mi avete scritto allora torno indietro alla riga per vedere un po' che cosa ci siamo detti un po' prima della riga dai saluto ci sono un po' di amici che sono arrivati buon pomeriggio Giuseppe Maurizio Claudia altro Giuseppe Mauro Salvatore Luciano Aldo l'ho salutato prima Vilma Umberto Giovanna Ceche ciao Ceche è un nome che mi risulta nuovo Maurizio Sebastiana come si attiva la lavagna bisogna premere entrare nel sito amici di Maggiolina ti consiglio Sebastiana se non ha mai visto niente mai fatto niente vai su associazionemaggiolina.it alfabetizzazione digitale e poi dopo qui trovi come funzionano sito amici abbonamenti dai un'occhiata ovviamente qui non si spende niente a guardare e poi capirai come si può accedere alla lavagna dal sito amici di Maggiolina allora poi Wally dice ciao Daniele in bocca al lupo grazie Wally Maurizio è un piacere sentirti grazie Maurizio buonasera a tutti ciao Luciano allora poi avevo disegnato la riga e quindi adesso vediamo che cosa ci raccontiamo ah ragazzi sotto c'è il pulsante il pollice in su per dire mi piace se vi è piaciuto se vi sta piacendo premete sul pulsante in su sul pollice in su perché noi abbiamo piacere di vedere se le cose vi piacciono e poi Maurizio carissimo Daniele se tu avessi necessità di installare un antivirus nel pc cosa installeresti meglio se è gratis allora questi software servono che non cito di nuovo la parola che hai usato tu perché dopo dopo quello che è successo negli ultimi anni è diventata una parola che quasi non si può dire e quindi anche noi nel mondo informatico cerchiamo di non usarla allora secondo me non si mettono sul computer da sempre io dico perché c'è già il suo software di protezione il nostro computer con Windows nasce con un software di protezione quindi tu compri la macchina c'è l'antifurto quando hai comprato la macchina nuova hai speso un sacco di soldi non vai dall'elettrauto a dirgli tirami via quell'antifurto lì mettimene uno ma c'è gratis quello che vendono quello che regalano al mercato in piazza mettimelo sul mio computer perché io voglio il software di protezione gratuito così sono più contento non lo fai con l'auto cioè non metti sull'antifurto gratuito che regalano nella piazza del paese dici ho comprato la macchina ho speso un sacco di soldi c'è l'antifurto mi fido del suo tutt'al più posso dire caspita sono un gioielliere o un sacco di cose dai c'è un antifurto super professionale e pago compro quello lì perché lo conosco altri miei colleghi lo usano eccetera allora ho bisogno perché ho dentro cose in auto talmente importanti talmente costose di avere un qualcosa di più quindi questo è il mio concetto il computer esce con già la sua protezione se fai qualcosa di super particolare e di cui quindi hai bisogno di una super segretezza di una super sicurezza eccetera ti affidi a un professionista o a un software che conosci che ti ha consigliato qualcuno che paghi per avere questa maggiore sicurezza ma se lo usi così come me che comunque ci lavoro computer va bene il software di protezione suo secondo me poi ognuno ovviamente fa tutti i suoi ragionamenti però il concetto di ok toglimi questo software di sicurezza perché non mi piace voglio quello che regalano alla piazza del paese ci sta non puoi averne due uno e basta perché ha il controllo del computer quindi se tu ne prendi uno gratis dai il controllo del computer a uno sconosciuto sai chi è che lo fa quello gratis perché lo fa gratis ok facciamoci queste domande allora poi infatti se ci fai caso non se ne sente più parlare non è che ci sia che ci sia tanto di questo adesso si va su altri discorsi ma non se ne sente più parlare allora Michele dice hard disk interno al pc hdd o ssd esatto quindi l'abbreviazione la scrivo qui così me la ricordo quindi hard disk o hdd per dire quelli tradizionali tipologia più vecchia o ssd che sta per solid stat disco a stato solido mentre in questi vecchi c'è un dischetto che gira in definitiva o più dischetti che girano in quello nuova generazione non è più un disco è una specie di memoria è come se fosse una specie di mattonella che assorbe le informazioni quindi è più sicuro più veloce perché anche se cade non si rompe perché non ci sono degli ingranaggi dentro ma è una mattonella e quindi migliore c'è per certe cose meno per altre c'è sempre un dibattito meglio questo meglio l'altro gli ssd si utilizzano perché sono più veloci comunque allora poi ieni ciao ieni Dario dice Grigio Daniele inavvertitamente ho cancellato la cronologia dal mio pc da tavolo chiedo se è possibile recuperare la cronologia come non credo che sia possibile recuperare la cronologia perché ti avrà chiesto anche se è sicuro di voler cancellare la cronologia e quindi una volta fatta è finito ci sono varie cronologie navigazione internet immagino ma no non c'è che io sappia non c'è modo di recuperarla Rollino Full dice lo Rollino Full dice buonasera è ok Daniele a tutti ciao Rollino Nadia ciao Nadia ciao Marcella Veronica ciao Veronica ciao Gianni ciao Milan ciao Sergio il sonoro saltella dicevo che adesso abbiamo risolto Jacqueline Claudio ok qui è il momento in cui c'era qualcosa che andava un po' così c'è stato un momento di stop ok dai adesso mi sembra che ci siamo comunque allora nel prossimo video in uno dei prossimi video mi vedrete parlare di YouTube e di gestire un po' queste cose qui il momento che saltella non saltella lo sfocato non sfocato devo guardare il corso e come dire ho perso tre parole non ho capito voglio tornare indietro ah caspita però io devo fare una cosa tu vai avanti ti voglio mettere in pausa oppure caspita Daniele come parli veloce aspetta che ti faccio parlare un po' più piano o viceversa o vabbè dai questa roba qui l'ho già sentita sto cercando dai ti metto veloce così intanto bla 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 ti sento lo stesso ripeto veloce poi arrivo al punto che mi interessa e torno ad andare normale quindi lo vedremo in un prossimo video rimanete sincronizzati iscritti al canale amici di Maggiolina tutte queste cose perché lo vedrete poi quando mi avete visto nel video questo abc della tastiera vedete che lì parlo più piano perché sono concetti importanti per i principianti e quindi volutamente vado piano ripeto vado piano ripeto vado piano ripeto mentre invece su queste cose teoriche le parole le capiamo e quindi mi viene da andare un po' più veloce allora poi allora vediamo di trovare le domande Aldo diceva tutto bene Gianni ok ok Gianni dice ma non riesco a seguirti ok Gianni ti consiglio con calma di guardare i video quelli magari inregistrata così almeno vedrai o forse è per il discorso della linea comunque ci sarà la registrazione poi Gianni allora Claudio dice ok però ho dovuto chiudere e riprendere Daniele a proposito di computer conosci i mini pc? sì perché ne ho usato uno in passato che era della Apple mini pc conosco quelli Windows non ne ho ancora usato uno o perlomeno non di recente mi piacerebbe e infatti sto cercando di vedere se riesco a procurarmene uno senza spendere troppi soldi e vedremo se se ne salterà fuori uno da provare sono computer come tutti gli altri nel senso che è un computer dentro uno scatolino dipende da quello che c'è dentro nello scatolino quanto è capiente il disco quanta memoria quanto è potente eccetera eccetera se ciò che lo compone la componentistica quindi i pezzi che lo compongono è di mio gradimento il computer va benissimo se invece non lo è nel senso che magari perché sia piccolo o perché sia economico ma non è detto che le due cose vadano insieme io potrei dire no perché non è abbastanza potente per le mie esigenze quindi dovremo imparare piano piano cosa vogliamo cosa ci serve cosa come sono fatti i computer abbiamo visto il disco oggi che la capienza siamo in grado di valutarla e quindi poi scegliamo il piccolo sta in poco spazio perché no anzi invece di portarmi via l'hard disk magari mi porto via il mini pc anche se per quello mi servirebbe il monitor però sì a me piacciono assolutamente un po' più caldi perché sono più stretti quindi magari soffrono un po' più di caldo ma bisogna vedere come sono fatti Giuseppe dice anziché nuvola lavorare con chiavetta va bene sono due cose diverse vedi che io lavoro invece che con la chiavetta con un hard disk perché è più capiente la chiavetta sarebbe comunque uguale basta comprarla della capienza giusta solo che una chiavetta della capienza dell'hard disk costa tanto e quindi ho preferito l'hard disk e quindi va bene la nuvola è un concetto diverso se io volessi usare solo la chiavetta non potrei usare questa lavagna qua perché la lavagna è solo sulla nuvola così come gli esercizi nel sito amici di Maggiolina ci sono tutti gli esercizi dov'è? questo è il sito amici di Maggiolina sì accanto a ogni corso ci sono gli esercizi qui dell'alfabetizzazione digitale dobbiamo ancora metterli ma c'è sotto il video perché è uno solo intanto quindi scarica gli esercizi eccetera eccetera per questi esercizi scarica gli esercizi scarica gli esercizi eccetera io ho lavorato sulla nuvola perché se gli esercizi fossero nel mio disco del computer non posso metterli a disposizione vostra perché dovrei essere a casa con il computer sempre acceso eccetera eccetera mentre invece io magari sono in giro il computer è spento oppure sono via col portatile eccetera quindi la nuvola non è un'alternativa al disco interno non è che dico ah no non uso quello interno uso la nuvola anche ma è una opportunità di utilizzo in più ed è molto usata perché adesso quando tu usi il computer non è più il computer e cose che fai solo tu ma in realtà a volte c'è una interconnessione con altre persone lavoriamo insieme facciamo cose insieme e quindi la nuvola è importantissima per cui si usa quando serve secondo le proprie esigenze e ci stiamo un altro modo di usare la nuvola che io non uso e lo vedremo in seguito o preferisco in un altro modo è quello di salvataggio dei dati nel senso che se io salvo tutte le cose nel mio computer ma se il computer si rompe o me lo rubano magari ce l'ho in macchina me lo rubano perché è il portatile e le robe che c'erano dentro il computer mi dà fastidio che me l'abbia rubato ma forse le cose che io ho creato in questi anni valgono di più del computer erano dentro il computer e me l'hanno portato via ho la chiavetta l'ho persa e c'erano dentro tutte le cose che mi interessavano e quindi qualcuno si dice nuvola e metto le cose lì sulla nuvola io preferisco avere due dischi uno su cui lavoro e uno su cui faccio una copia di salvataggio quindi in realtà oltre al disco su cui lavoro ho anche un altro disco che non uso mai ma su cui spesso faccio una copia di salvataggio si chiama backup per salvare le cose che mi interessano e lo tengo separati nel senso che quando viaggio quello di salvataggio sta a casa perché sta al sicuro allora fatemi ringraziare la super chat di Giovanni che per noi sono importantissime ne è arrivata una sola quindi rischiamo anche di perdermela grazie grazie infinite Giovanni super sticker nel tuo caso allora ok e quindi ci siamo mini pc la nuvola va bene comunque va bene Giuseppe ognuno si organizza come vuole quindi non c'è il mio modo di usare il computer che è giusto e quello degli altri sbagliato c'è il modo con cui io mi trovo bene e si evolve perché faccio così per un po' poi capisco una cosa dico no aspetta meglio che perché è uscita questo sistema qua o perché mi è capitato allora aspetta che oppure ho sentito Giovanni che dice che fa questo ma sai che forse è furbo lo faccio anch'io quindi non c'è un modo giusto o un modo sbagliato c'è un modo di usare il computer e piano piano più cose conosciamo e più gestiamo le nostre cose per le nostre esigenze perché ognuno di noi fa quello che che serve a lui che piace a lui e lo fa come come crede e non sbaglia mai allora poi ciao Marzia Maria Teresa ciao Maria Teresa Jacqueline ora ok ho chiuso e riacceso sì ok ma penso che fosse un momento del sistema e non della singola persona allora Milan dice Daniele con i Chromebook non ci puoi fare nulla per me va bene Windows ma con quello non fa per me solo app Android allora i Chromebook sono questi nuovi computer ci sono da tempo ormai super economici sì economici diciamo economici perché in realtà non è che siano i più economici e con il sistema operativo Chrome OS un nuovo totalmente un modo totalmente nuovo di usare il computer più semplice sapete che io dico sempre facile allora non vuol dire meno possibilità in realtà in realtà è un modo totalmente nuovo che va provato nel senso che io sono abbastanza conservativo dicono ma no secondo me per me quelli lì non vanno bene però li proverò lo proverò per mostrarvelo ma anche per capire com'è vedendoli da fuori mi dico no secondo me no perché io sono abituato a fare certe cose eccetera eccetera però è un modo nuovo di usare il computer un sistema diverso al quale forse bisognerà avere un po' di tempo per abituarsi ma non è detto che sia sbagliato e quindi ok nuvola sono centrati sulla nuvola adesso la nuvola è gratis per buona parte ma chiaramente se il mio computer lavora solo sulla nuvola forse a un certo punto dovrò pagare la nuvola forse non avrò abbastanza spazio gratuito sulla nuvola quel giorno che la nuvola non va perché c'è non so in questa zona qui non prende niente il telefono e non posso usare il computer perché lavora sulla nuvola questi sono i contro però ci sono tantissimi pro è il discorso che ti portano via il computer fa niente mi spiace per i soldi ma tutto è sulla nuvola eccetera insomma va solo provato per capire se è giusto per noi se riesco cercherò di averne uno per mostrarvelo per fare un corso per imparare insieme perché siamo sempre qui a imparare insieme perché tutte le volte mi fate una domanda e io imparo qualcosa di nuovo e quindi vedremo com'è e ognuno deciderà se gli piace o no poi io voglio comprarmi un pc portatile HP per me il migliore ok qui parlerete delle varie marche sapete che anch'io amo quella marca però ognuno fa le sue esperienze anche qui siamo sempre su questo discorso allora qua tutto bene Giovanni sta parlando con Giuseppe ok e qui vedo un po' di ok poi ho chiesto mandatemi gli ok sono arrivati voglio almeno un pc da 8 core dice Veronica ci sta sei chiaro e bravo come sempre grazie Antonio va tutto benissimo adesso tutto ok tutto ok a me è passata la pubblicità ragazzi quando passa la pubblicità ditevi vabbè Daniele è contento perché serve quindi grazie Anto io vedo e sento benissimo Aldo ciao ragazzi tutto ok per me solo smartphone non ci sono problemi allora Enio Daniele da un po' di tempo nel corso diretta nella visione dei vari video dei tuoi post appare qualche secondo la pubblicità come posso fare per eliminare questo fastidio capisco che sia un fastidio sono d'accordissimo però serve ragazzi perché fa fai il suo anche la pubblicità quindi non è eliminabile però ditevi vabbè meno male dai che c'è la pubblicità così c'è anche Daniele che fa vedere che fa vedere i corsi poi cos'altro poi ci sono periodi in cui ce n'è di più periodi in cui ce n'è di meno e quindi è così in sostanza e questo adesso è un periodo di pubblicità perché le aziende fanno pubblicità Gianni possibile che sia solo io a non sentirti bene scatti e no è da più persone questa cosa secondo me è successa a più persone nel prossimo video vedremo come potremo gestire le nostre cose in tal senso in uno dei prossimi ecco ad esempio adesso ci siamo di nuovo bloccati quindi oggi la linea fa un po' i capricci e oggi la linea fa un po' i capricci sto guardando il mio telefono per vedere se è tutto a posto e vabbè comunque siamo arrivati quasi alla fine io vado avanti come se niente fosse anche se la linea va un po' malino perché spero che poi si veda per voi si veda che mi sentiate e che la registrazione sia buona allora come faccio a passare il documento nel disco che mi interessa e qui ci arriveremo ai ragazzi allora poi Arnaldo ci saluta deve poter andare torno un po' indietro sono andato un po' avanti quindi c'erano un sacco di domande peccato ah dai dai che ci siamo ripresi no va un po' a scatti Daniele un saluto dalla provincia autonoma di Trento per Michele Sergio se ho disco C posso trasferire i dati da C a D sì ci sono anche dei video in cui mostriamo questo bisogna che li cerchi qua puoi scrivere nel sito amici di Maggiolina puoi scrivere trasferire e lui ti dovrebbe dare tutti i video in cui abbiamo fatto questo discorso e quindi ce ne saranno spostare dati sul nuovo pc ce ne sono un po' e c'è anche quello del trasferire i dati da un disco all'altro con cautela e dai esperti farlo così adesso con calma ragazzi ci sono i lettori DVD esterni sì è vero quando si fanno le lastre nelle strutture sanitarie lasciano al paziente un CD o DVD esatto che poi di solito il medico quando vai fa fatica a leggere per vari problemi però sì te le rilasciano e bisognerebbe saperle consultare avere il computer adeguato ma anche sapersi sapersi muovere tra le varie aziende però se te lo danno a te e hai il lettore DVD te lo puoi guardare e quindi ci sta Arnaldo alla prossima che l'abbiamo già visto io sto archiviando tutto o meglio sto facendo i backup regolarmente utilizzando backup cloud ok di un'azienda con l'abbonamento è pieno adesso cosa mi consigli di fare se è pieno ti chiederanno se vuoi estenderlo pagare di più oppure organizzarti in un'altra maniera e quindi se è pieno devi capire ci sono troppe cose su questo backup su questa cosa oppure no se ce ne sono troppe si tira via quello che non serve se invece come dire non ce ne sono troppe serve trovare un altro posto dove mettere le tue cose il backup in sostanza Graziano Maggiolina Rossa come faccio a passare il documento ah ok nel disco che mi interessa l'avevo già visto prima c'è un discorso un po' lungo Graziano serve che abbiamo un po' di dimestichezza col computer un po' alla volta ce la faremo poi Giorgio dice ho notato che dal pc si verificano fermi ma dal cellulare no bene così Marcella al posto del disco esterno di lavoro posso usare una chiavetta per conservare documenti di lavoro capienza massima o più chiavette certo assolutamente sì quindi una scelta anche io avevo guardato la chiavetta invece del disco ma se io mi prendo una chiavetta grande come il disco con il portachiavino la tengo insieme alla chiave della macchina ma io faccio un bel lavoro con quella solo che costa un sacco e quindi non ho voluto spendere perché ci sono chiavette che hanno la stessa chiavetta che hanno la stessa capienza del disco e hanno la sua praticità vuoi mettere una chiavetta così contro un disco così più delicato rispetto alla chiavetta e quindi assolutamente lo puoi fare Anto ecco qui Anto ormai ha imparato questa cosa perché anche lei dava fastidio dice serve la pubblicità quindi bravo Anto Antonio dice ho seguito con interesse ti saluto ciao Antonio Maurizio tutto chiaro Anto dice però hai sempre consigliato di mettere anche un software anti malware no in realtà in caso di difficoltà del computer di sospetto di software dannoso eccetera in passato usavo un malware bytes quindi un software di protezione per fare una verifica facevo la verifica era gratuito ai suoi tempi lui puliva e poi lo toglievo così gli toglievo l'accesso e tutto quanto e ormai è tantissimo tempo che non ne ho più bisogno ma proprio anni anni e anni secondo me si è elevato un po' il modo di protezione dei nostri computer quindi certe cose sono cambiate Antonio dice Daniele come fare un salvataggio dati aggiornabile allora io ci sono vari sistemi ho lo spazio di archiviazione spazio di archiviazione e trovi tutti tutti i video che ne parlano quindi dal sito Amici di Maggiolina scrivo spazio di archiviazione e ci sono tutti i video in cui ho parlato di questo oppure dovrebbe esserci anche una playlist backup backup raccolta di tutti i video questa playlist quindi questa raccolta di video ti mostra come puoi salvare i dati io attualmente sono passato al Robocopy perché per le mie esigenze è più facile è più sicuro per le mutate esigenze che ho avuto recentemente faccio uso Robocopy e in questo video all'88 faccio vedere come faccio però tutte queste sono idee modi di fare il backup e quindi serve per farsi un'idea per scegliere il modo che va meglio per te poi bene che la linea sta andando dai Mario dice ciao carissimo sto guardando i tuoi video per quanto riguarda Python sei grande complimenti grazie grazie infinite Mario Maria come si usa il microfono Excel il microfono Excel non mi viene in mente un modo di usare il microfono in Excel come un qualsiasi altro programma ma vorrei capire avrei bisogno di sapere di più su come vorresti fare questa cosa perché non si usa il microfono in Excel però magari tu hai un'esigenza che a me non viene in mente allora poi cerco di prendere le ultime chat che avevo piacere di salutare un po' tutti Ghino dice capita spesso di compilare un form dopo aver cliccato invia tutto scompare e il messaggio non figura tra quelli inviati esiste un modo per stampare una copia e avere così la data dell'invio no di solito i form sono creati all'interno dei siti internet un form è un modulo all'interno di un sito internet se voi lo compilate e premete invio la gestione di quel modulo passa all'azienda che lo ha messo a disposizione quindi loro lo ricevono se hanno scelto che ti arrivi un messaggio di ritorno di solito un email con il riepilogo dei tuoi dati lo ricevi se hanno scelto di non mandartelo non lo ricevi non hai modo di salvarlo perché non passa all'interno della posta elettronica eccetera quindi non mi viene in mente una soluzione in tal senso Angelo dice ciao a tutti Claudio dice quando lavoro con Google Fogli ciò che faccio posso salvare pure nel PEC no la PEC è posta elettronica certificata è un altro discorso quando lavori tutto quando lavori con Google Fogli si salva automaticamente in Google Drive che è la nuvola di Google ma il PEC no la posta elettronica certificata è un altro discorso potresti mandarti un'email ma direi di lasciar stare nel senso che non è la stessa cosa Anto al sicuro dalle alluvioni no dice perché lei ci è passata ok grazie grazie Michele ti ringrazio per questa risposta Daniele anche se l'ho sentita in parte adesso devo uscire ciao Michele spero che potrei guardarla dopo saluto Salvo che dice ciao piacere salvo la prima volta che vedo che ti vedo in live ti ho aggiunto nei preferiti da poco ti posso contattare info chioccio l'associazione maggiolina.it scrivetemi lì mi ricevo tantissime se riesco rispondo e se non riesco sapete che no magari mi scrivete di nuovo Luis dice avrei una domanda da un milione di dollari ah Luis me l'hai fatta in un sacco di posti questa domanda e questo è il posto giusto perché ti posso rispondere per esteso allora il foglio di Excel che hai caricato non funziona bene non è impaginato correttamente e non ha le formule bisognerebbe vedere come lo hai caricato perché effettivamente è compatibile Google Fogli è in grado di vedere i fogli di Excel almeno per le volte che lo ho fatto io c'è sempre stato questa possibilità quando lo apri lui ti chiede se lo vuoi salvare in XLS eccetera devi fare quello che ti chiede e un'altra cosa importante è questa quando tu lo vai a consultare con cosa lo consulti perché il foglio di Excel caricato su Google Drive lo vedi bene solo se sul dispositivo hai Google Fogli quindi se lo usi sul computer Google Fogli c'è nel senso che è direttamente dalla nuvola e quindi vai in Google Drive apri e vedi il foglio di Excel che hai caricato se invece lo usi con lo smartphone sullo smartphone o sul tablet deve essere installata l'app Google Fogli altrimenti vedi solo il documento come se fosse un PDF ma non vedi le formule non puoi modificarlo eccetera detto questo servirebbe proprio vedere il tuo documento caricato sulla tua nuvola per vedere che cosa può essere questa situazione perché altrimenti senza vederlo non so non so bene darti una risposta però bravo che hai trovato il posto giusto per scrivermi così ho potuto risponderti come si deve salvo ti vorrei chiedere alcune cose del computer ok scrivi salvo e vediamo Letizia ciao Daniele sempre interessanti i tuoi video un saluto a tutti e Sabrina ciao a tutti allora vi saluto vedo che da me si è bloccato ancora ma so che qualcuno di voi mi ha visto spero che lo abbia visto Luis perché a lui serviva questa risposta semmai guarda la registrata Luis e basta vi saluto ragazzi ci vediamo al prossimo video in diretta mercoledì 18.30 dovevo dirlo all'inizio mi è venuto in mente adesso la settimana prossima 30 minuti dopo perché ho un impegno pomeridiano che adesso probabilmente si stabilizzerà e mi fa arrivare di corsa faccio fatica arrivare per tempo per fare la chat eccetera quindi 18.30 almeno la settimana prossima e vediamo come va ragazzi grazie infinite per essere stati con me grazie per le super chat grazie per le super sticker grazie per le super grazie grazie a tutti gli abbonati e a tutti quanti tutte quante le persone che ci sostengono in qualsiasi modo ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi allora sono pronto e devo schiacciare i tasti giusti a presto buona serata buona cena buon tutto devo schiacciare questo ciao